Cerchio Ifior, visto che l'altro soffre. Cerchio Ifior, l'uno e i molti, attraverso Tullia e Gian, domanda, rispetto alla discriminante del fare quello che si sente non danneggiare gli altri, qui si entra in un capitolo molto delicato. Ifior, molto delicato, certamente. Domanda, penso a quando qualcuno ha un sentimento forte che lo porta a doversi confrontare, non so, con un partner e dover parlare di situazioni per cui lui non riesce più ad andare avanti, sapendo che gli fa anche del male e mettersi con un altro, eccetera. Non è facile stabilire se allora uno deve farlo per forza, perché altrimenti gli fa del male, oppure lasciar fluire questo sentire che non riesce a trattenere. Ifior, ma vedi, nella situazione specifica a cui tu hai accennato, forse il ragionamento da fare non sarebbe propriamente quello. Il ragionamento da fare sarebbe io sento il desiderio, sento l'impulso, la spinta ad abbandonare questa persona e crearmi una mia vita diversa con un'altra persona. Ora, certamente, la persona che abbandono soffrirà per questa mia scelta. La domanda che l'individuo si dovrebbe porre non è tanto faccio bene a fare la mia scelta o faccio male visto che l'altro soffre, quanto ragionare con un po' più di ampiezza e di respiro. Se io resto contro ogni mio sentire, tra virgolette sempre e naturalmente, sarà più o meno doloroso che se io vado via per quest'altra persona, lasciando anche da parte il fatto che per me sarebbe più doloroso restare? Se mi preoccupo dell'altro, preoccupiamoci prima di tutto dell'altro a questo punto, giusto? Non nascondiamoci dietro al se lascio questa persona la faccio soffrire. Pensiamo anche se io non lascio questa persona, non la faccio soffrire sul momento, ma senza dubbio verrà il momento che la farò soffrire molto di più. Cosa le darò in cambio? Le dirò o gli dirò a seconda dei casi? Ti voglio sempre bene come prima e la mia sarà soltanto falsità? E che rapporto posso costruire in questo modo? Quindi, come vedete, anche applicare la discriminante in molti casi non è facile. Tant'è vero che, come ho detto, questa discriminante può essere usata soltanto quando si ha già un certo livello evolutivo. L'importante è cercare di capire quando è giusto fare ciò che si sente e quando non è giusto e cercare di esaminare con attenzione le conseguenze sugli altri del proprio comportamento. Mettere da parte per un attimo le conseguenze su se stessi e poi cercare di comportarsi nel modo migliore per far soffrire l'altro o l'altra il meno possibile. Mettere da parte per un attimo e poi cercare di capire che sia un certo livello evolutivo che sia un certo livello evolutivo che sia un certo livello evolutivo